Si è spento a 71 anni il nostro collega Ferruccio Ugolini era in pensione da alcuni anni, noi tutti lo ricordiamo come un tecnico competente ma soprattutto una persona attenta ai bisogni degli altri, i funerali giovedì alle 14.30 a Pergine, alla figlia Veronica e a tutta la famiglia il cordoglio della TGR.